Musica Quinta giornata nel campionato di Serie A1 femminile e Sassari che guida la classifica con 12 punti va domani alla ricerca del quinto successo consecutivo le sarde allenate da Baroggio sono protagonisti assieme alla Lombardi Ecologia Conversano di una delle tre sfide che si disputa domani per il nuovo turno della massima serie femminile il via in programma di questo incontro alle 19 la direzione della coppia di Sciani e Busalacchi scontro diretto per chi aspira al quarto posto solitario tra Teramo e Mestrino le due compagini hanno entrambe tre punti in classifica e una vittoria la contesa avrà inizio alle 18.30 arbitrano Mastro, Mattei e Borocore la contesa tra Sassari e Conversano sarà di grande interesse per la Iome Salerno seconda forza del campionato e domani impegnata in casa della HC Nuoro che da par suo è alla ricerca della prima vittoria in campionato secondo incontro in terra sarda della giornata questo arbitrano Mosaner e Zancanella si comincia alle 17 3 e 2 2 2 3 Grazie.